Musica Musica Anzi andiamo subito a parlarne perché insomma adesso c'è una parte che dice guarda che è già bloccato tutto dal decreto del giugno e un'altra sostiene invece no viene bloccato tutto dall'emendamento che verrà introdotto dal DDLC purezza. Allora partiamo da spiegare subito una cosa intanto la cannabis comunque illecita cioè non è stato legalizzato nulla stiamo parlando del mercato consolidato della canapa light industriale eccetera eccetera che vogliono cercare di bloccare di togliere di sopprimere perché questo è il punto l'obiettivo è questo per lasciare tutto autorizzato in mano medica e da lì gestire la produzione. Allora hanno diciamo questa brillante idea vado a leggere poi mi dirai cosa c'è di vero e cosa vogliono fare ti dico questo emendamento che vogliono proporre e che probabilmente secondo me da come l'ha messo giù potrebbe anche essere approvato dice che vogliono vietare l'importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna anche della canapa e dell'implorescenza di canapa industriale della tabella quella fa niente ma ha riferimento alla legge 242 del 2016. Cosa quindi potrebbe succedere se passasse questo? Bella domanda. Allora io voglio entrare un attimo proprio nel diritto penale perché la verità è quella fino adesso si è sostenuto Salvini, i sequestri che si sono sentiti in questi anni che le infiorescenze erano illegali, arrivano da un giorno all'altro a rendersi conto che non era così evidentemente perché hanno deciso di scrivere questa legge. Una legge che inserirebbe comunque la commercializzazione di queste infiorescenze nuovamente o forse in maniera più decisa, sicura, nell'ambito del DPR 309-90 e quindi con conseguenze penali. Purtroppo però un reato penale non può essere previsto per un comportamento inoffensivo. Ora noi sappiamo che purtroppo questa cosa non viene vista in maniera completa anche se tanti passi avanti sono stati fatti anche per esempio sulla cannabis, sulla coltivazione domestica, perché si è riuscito a mostrare come determinate condotte effettivamente non avessero poi delle conseguenze negative per la salute pubblica. Al massimo uno può fare del male a se stesso, ma questo non è vietato. Insiede su se stesso. Esatto, e questo non è vietato. Ma quando è talmente ovvio e non c'è un danno, si ripeterebbe, si ripeterà la stessa tematica affrontata nei tribunali in questi anni. Si può vietare? La realtà è no in queste modalità, non utilizzando una legge penale. Sicuramente mettendo delle regole, sicuramente definendo e categorizzando un prodotto per cui uno rispetta delle regole, se non le rispetti ci sono delle multe. Lì ti posso punire utilizzando lo strumento del diritto amministrativo. Col penale non vado da nessuna parte. Significa che ha sicuramente tantissimi nuovi processi, perché si tratta di dare il nuovo elemento a tutte quelle zone, oristano, macerata, dove i giudici alle forze dell'ordine hanno detto ora basta, basta mandarci reati che poi dobbiamo assolvere e perdiamo tempo. E quindi ci servono degli elementi nuovi per continuare a reiterare questa repressione. Quindi nel merito, io dico, è anche possibile, come dici tu, che riescano ad approvarlo, perché c'è una forte maggioranza, si stanno vedendo resistenze anche a col diretti che sta prendendo posizione, le grandi organizzazioni. Noi voglio dire, sì, rappresentiamo, siamo 220 aziende nella nostra associazione, il settore ne può contare 2.500, 3.000, però se ti parla col diretti che rappresenta un milione di coltivatori e che non si è mai discostata dal governo negli ultimi anni, forse realmente questa è una presa di posizione allucinante. Ma, diciamo, mentre sembrava che si stesse assopendo e quindi forse l'emendamento non sarebbe mai stato inserito nel DDL, l'ultima notizia prima delle vacanze è che alle 4 di notte si è deciso invece di votarlo, di inserirlo. Adesso infatti non è più l'emendamento 13.06, ma è l'articolo 18 del disegno di legge sicurezza. Quindi poi questo articolo 18, insomma, dovrà insieme a tutto il testo essere votato ancora alla Camera e poi al Senato con tempi che anche nella peggiore delle ipotesi, per noi ovviamente, peggiore delle ipotesi, un mese, un mese e mezzo ci deve per forza volere ancora per riuscire ad approvarlo. Mettiamoci che è stata sollevata una pregiudiziale di costituzionalità per un'altra serie di articoli previsti nello stesso decreto che vogliono inserire anche la stessa questione dello just solid in modo tale da provare a dividere. Quindi è un decreto che ancora di strada da fare ne ha. Noi in ogni caso per non rimanere impreparati stiamo raccogliendo i danni e facendo il lavoro che un po' ti ho illustrato sul video del decreto e sulla situazione del decreto sul CBD lo stesso ci vogliamo preparare a fare con questo perché comunque sarà più difficile, se è una legge, è più difficile arrivare a una pronuncia se non dovessero esserci alcune condizioni. L'unica via può essere la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia Europea e in quei casi lì non è affatto semplice. Sulla cannabis si sta cercando di avere questioni di costituzionalità da anni e c'è sempre un po' la politica che cerca di evitare di trattare il tema. L'Europa potrebbe maggiormente venire dalla nostra parte e diciamo che ci stiamo muovendo parecchio in quella direzione proprio perché speranza un po' sull'istituzione italiana sono ovviamente quelle che sono. L'Europa ci ha già dato ragione con la sentenza della Corte di Giustizia e insomma è un conflitto in fondo che viola i principi europei quindi speriamo di avere quella parte di supporto. Nel merito abbiamo lanciato proprio delle denunce cioè l'Europa offre tutta una serie di strumenti che spesso vengono sottovalutati e che però possono dare comunque dei risultati importanti. Abbiamo fatto queste denunce che sono state anche accolte dalla DG Agri ci è arrivata poi pure un'ulteriore comunicazione dopo un mese e mezzo che la questione viene affrontata quindi per quanto i tempi sono sempre quelli dei giudici un po' lunghi questo può realmente portare addirittura a delle procedure di infrazione cioè prima a una richiesta di chiarimenti poi a una richiesta di sospensione di quel provvedimento in contrasto ed anche a delle procedure di infrazione laddove si tratta di un contrasto a un regolamento anche a una disapplicazione della normativa interna perché diciamo esistono due temi spesso si dice noi pagiamo le infrazioni su un sacco di cose l'inquinamento di qua e di là e non ci adeguiamo mai il problema carcerario eccetera eccetera perché purtroppo ci sono due ordini di leggi e l'equivalente per l'Europa sono i regolamenti e le direttive regolamenti e direttive che hanno due caratteristiche un po' diverse mentre le direttive sono generali e astratte e che ne so impongono il raggiungimento di inquinamento X inquinamento Y e quindi richiedono che lo Stato si adegui e dica alle aziende tu guarda ti devi controllare così e faccia delle leggi i regolamenti sono delle cose molto più specifiche tipo la densità di un mattone o appunto le piante che fanno parte del catalogo comune o i cosmetici sono cose molto più specifiche che possono avere una portata di diretta applicazione quindi una norma che entra in contrasto essere disapplicata poiché la Corte di Giustizia Europea ha detto questo noi non diciamo che non stiamo puntando a far pagare le sanzioni in Italia che poi tanto non cambia nulla ma se dovesse andare la sentenza di Corte di Giustizia obbliga qualsiasi giudice italiano a disapplicare quella normativa in contrasto e quindi può avere una portata maggiore per dare maggiore peso a queste denunce abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare ci ha aiutato il Movimento 5 Stelle e ora con Alleanza Verdi e Sinistra ci stanno aiutando per lavorare su una petizione i quali Europa Verde comunque che in Europa petizione che potrebbe portare diciamo ad accelerare tutto questo processo di cui abbiamo parlato quindi le stiamo facendo proprio tutte bisogna provare tutte le strade è l'unica anche perché anche perché loro come hai detto non ci mettono nulla a impugnare a rispondere dopo che vincete rispondono ancora perché poi è questo che è successo negli anni continuate ad avere ragione perché alla fine avete ragione c'è ragione e vogliono invece continuare a spingere questa situazione